400 metri quadrati di superficie piastrellate e 900 di verde pubblico si apprestano ad ospitare venti e mercatini nella zona adiacente ai parcheggi situati fra il Brico Center e il centro commerciale Usciana Bellocchi di Fano, una zona lasciata all'abbandono da ormai quattro anni quando l'amministrazione comunale, dopo averla data in concessione per tre anni al Brico Center dal 2008 al 2011, l'anno successivo decisa di rimuovere per motivi di sicurezza l'attenso struttura distrutta dalle intemperie. Ma quest'anno entro la fine dell'estate inizieranno i lavori per ridare un nuovo volto all'intera area. Martedì infatti Alfonso Damiani e Umberto Sperandini hanno vinto la gara aggiudicandosi la gestione che avverrà in stretta collaborazione con il comune di Fano. L'area sarà dotata di una nuova illuminazione e la struttura in muratura verrà tinteggiata di rosso e bianco, i colori del vessillo della città della fortuna. A breve dunque sarà pronta ad accogliere manifestazioni di ogni genere e mercatini di prodotti tipici locali e non solo. Ci interessa il produttore di vino, il produttore di olio, il produttore di formaggi, ci interessa il piccolo artigiano o artigiana che fa, che ne so, all'uncinetto a casa il prodotto e che poi lo vuole vendere. Ecco questa cosa qua sul giornaliero. E poi un secondo binario per eventi, chiamiamoli così, straordinari. Quindi diciamo noi abbiamo delle idee, delle idee così, cose che poi vengono a strada facendo, che possono essere da una festa abusatissima della birra che non faremo mai, però soltanto per capirci, come però per esempio abbiamo un'idea, ormai quest'anno non ce la facciamo più perché il tempo è passato, però una fira del tartufo nero, perché il tartufo nero non la fa nessuno, si fa in estate perché il scorsone o il presato di norcia si matura in estate e quindi con i produttori o i cercatori anche locali, perché ci sono anche dei cercatori locali, organizzare una fira del tartufo. Fra le idee c'è anche quella di organizzare una fira del verde, ma prima di confermare le varie iniziative si svolgerà nei prossimi giorni un tavolo di confronto con le associazioni di categoria. Mentre sull'area piastrellata possiamo posizionare tavoli, seggiole, casette di legno per l'esposizione eccetera, il verde pubblico già da bando vieta l'installazione di qualsiasi tipo di forma di oggetto, tranne il poter far giocare bambini e trascorrere tranquillamente qualche oretta, mentre le mamme magari se ne vanno a fare la spesa al supermercato. E questa è proprio una vostra idea, quella di realizzare un piccolo parchetto per i giochi, per i bambini e anche un intrattenimento? Anche, come diceva il dottor Damiani, valorizzare l'area in maniera tale che questo piccolo degrado che oggi vediamo possa essere cancellato e torni in voga a questo spazio che ha una potenzialità secondo noi enorme. Siete a disposizione anche delle varie associazioni che volessero collaborare con voi? Certo, diceva anche giustamente il dottor Damiani, apertura, tutti quanti vorranno collaborare, esporre, organizzare qualche manifestazione anche a denti no profit che devolveranno il loro contributo ad associazioni bisognose. Ok, noi siamo disponibili, siamo aperti. Tutto questo per valorizzare la nostra città dove viviamo e per non essere sempre secondi a Pesaro.